Un uomo di 38 anni di Mussomeli è finito in carcere per i reati di resistenza pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. L'episodio si sarebbe verificato venerdì sera, quando l'uomo, sottoposto alla misura dell'affidamento in prove ai servizi sociali, avrebbe violato il divieto di allontanarsi dal domicilio dalle 21 alle 8. Sarebbe stata la madre a chiamare i carabinieri, dicendo che il figlio era uscito per ubriacarsi. Così i militari hanno iniziato la ricerca dell'uomo senza però riuscire a trovarlo. Sarebbe stata sempre la madre più tardi a ricontattare il 112 e a riferire che il figlio era tornato a casa. La donna, preoccupata dallo stato di alterazione dell'uomo, avrebbe temuto per la propria incolumità. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, infatti, l'uomo avrebbe tentato di colpire uno di loro con una testata. Il militare, però, intuendo l'intenzione violenta di quest'ultimo, sarebbe riuscito ad evitare il colpo. A quel punto i due carabinieri hanno provato a bloccare il 38enne, che avrebbe reagito con calci e pugni. Nonostante le manette, però, l'uomo sarebbe riuscito ad afferrare uno dei militari, facendogli battere violentamente la testa a terra. A quel punto, nonostante il cellulare di uno dei carabinieri si fosse rotto, i due militari sarebbero riusciti a chiamare i rinforzi. Ma non sarebbe finita qui. Una volta in caserma, infatti, l'uomo avrebbe continuato con il suo atteggiamento aggressivo, lanciando un tavolo e un cassetto contro i carabinieri, danneggiando anche un distributore di bevande, così da rendere necessario il suo trasferimento nella camera di sicurezza. I due militari, quindi, sarebbero stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso per le cure del caso, dove sarebbero stati curati e dichiarati guaribili in una settimana. Per l'uomo, intanto, si sarebbero aperte le porte del carcere, così come disposto dal PM Dario Bonanno. L'arresto sarebbe stato infine convalidato dal giudice Nicoletta Frasca.